ciao ciao a tutti e bentornati sul mio sbrillucicoso canale terza delle campionature del mese di giugno di perline e film e co come vi ho anticipato con i due video precedenti l'altro giorno c'è stata la diretta dal magazzino di perline e film in cui finalmente sono riprese le nostre dirette insieme con analisa e quindi oggi sono qui ad illustrarvi la terza delle campionature perché questo mese proprio sono state talmente tante le novità che analisa ha deciso di suddividere in tre bellissime campionature questo anche da vostra richiesta durante la diretta quindi questa è la terza appunto vi lascerò qui sotto magari oltre al link dell'inserzione anche il link agli altri due video che sono uscite proprio precedentemente a questo e ora passo a mostrarvi la terza campionatura che è quella delle perline parpuca meravigliose colorazioni delle helios e delle arcos ora quindi apre il pacchetto e vi mostro il contenuto ecco che vi mostro quindi il contenuto della campionatura delle perline parpuca iniziando dalle helios in questa meravigliosa colorazione in molti casi sono proprio nuovi colori quindi in alcuni casi sono nuovi inserimenti del sito come colorazioni in altri come in questo sono proprio nuove colorazioni in casa parpuca infatti guardate quanto è meraviglioso questo colore molto adatto appunto all'estate devo riprendere effettivamente in mano l'helios che conoscete un progetto che lo trovate su essi gli orecchini nant ma in realtà ho due progetti pronti da febbraio che avevo preparato per dei corsi che dovevo realizzare ma che per il momento sono spostati più avanti quindi magari li farò appunto ve li farò il tutorial qui sul canale adesso vediamo un attimino come sono organizzata un pochino con il tutorial perché effettivamente erano due bei progettini che sicuramente ci tengo a farvi conoscere allora procedo quindi con le colorazioni guardate anche questa quanto è bella proprio molto solare come di consueto vi dico anche in questa campionatura ovviamente qua non vedete nessun riferimento perché è la campionatura che mi sono fatta fare al volo prima di venire a casa per evitare appunto di spedirmi in un secondo momento ma nelle vostre ci saranno le etichette con codice quantità in modo che se in un futuro avrete di nuovo bisogno di questo colore saprete appunto il riferimento allora bustina appunto da 5 grammi e guardiamo appunto anche quest'altra meravigliosa colorazione che credo sarà la prima che utilizzerò guardate che bella proprio stupendo questo colore e poi guardiamo quest'altra bella anche questa io non li ricordo appunto i colori perché sono colorazioni nuove quindi non vorrei sbagliare guardate che questo che meraviglia troppo troppo bello e infine questa questa colorazione quindi come potete vedere da qua davanti le bustine da 5 grammi di elio sono ben sei quindi sei meravigliose colorazioni procedo ora con farvi vedere le arcos che in alcuni casi sono colorazioni che magari già conosciamo ma sono nuovi arrivi direi per quanto riguarda il sito per in efe manco come questo qua anche qua come vi dicevo 5 grammi per ogni pacchettino questo bel rosa questo bel tono di celeste che lo vedo proprio adatto a una creazione in stile in stile passaggi della grecia magari questo bel colore abbinato al bianco si vedo proprio una bella creazione bel paio di orecchini molto molto estivo bello bello poi quest'altro che qui non dovrei sbagliare a dirvi che è il passe dell'emerald colore che adoro poi ci sono due colori invece anche qua nuovi in casa parpuca per quanto riguarda anche le arcos guardate che bello che è questo colore è veramente spettacolare mi piace un sacco come anche meraviglioso questo guardate che bello c'è proprio una bellissima finitura con questi schizzi un po sul bianco un po sul cop per veramente fenomenale come il colore anche questo quindi come vedete anche le arcos sono ben cinque bustine di arcos scusate e per finire c'è l'omaggio perché comunque analisa ci ha abituato che nelle campionature ci vuole sempre fare una coccola in più quindi anche in questo caso c'è l'omaggio e guardate bene di cosa si tratta è un cabochon da 18 mm parpuca e sapete bene se seguite un po l'azienda parpuca che sono comunque costosi quindi un bellissimo regalo da parte di analisa grazie se non li conoscete sono quelli che hanno questo bel ritro piatto e così insomma questo è un omaggio da parte appunto di analisa su questa campionatura bene questa è la campionatura parpuca delle campionature di giugno di perline femmo e un co ben sei bustine da cinque grammi di elios e cinque bustine da cinque grammi di arcos con il regalo un cabochon da 18 mm sempre parpuca e con questo con questo video sono finite le tre campionature del mese di giugno di perline femmo e vi lascerò come vi ho anticipato il link anche alle altre campionature se non le avete viste sono uscite proprio precedentemente a questo vi lascerò ovviamente il link all'inserzione come sempre vi ricordo che se siete intenzionati appunto interessati all'acquisto di queste campionature sono sempre a tiratura limitata quindi finiscono velocemente è proprio per questo che vi consiglio se vi interessano di accelerare diciamo l'acquisto di una di due o di tutte e tre le campionature e poi al proposito vi annuncio anche qui vi ho già appunto parlato di questa nuova uscita del kit di un paio di orecchini appunto del di debora i monili di debora quindi uscirà anche il kit vi ho mostrato nel video delle basi degli orecchini anche un'anticipazione a proprio delle colorazioni di questo meraviglioso progetto di debora in entrambe le colorazioni quindi tenete d'occhio il sito perché nei prossimi giorni troverete anche questo kit e io quindi vi ringrazio per aver visionato questo video e ci vediamo alla prossima ciao rieccomi scusate devo fare una rettifica su questa campionatura sulla campionatura parpoca perché riguardandoci la lirette mi sono confrontata appunto con analisa in realtà subito avevamo composto così come avete visto la campionatura poi dopo in extremis avevamo aggiunto per fare conto pari un'altra colorazione di arcos quindi questo video io non ho adesso il colore qua con me ma è l'acqua o pallaster che troverete appunto una bustina di questo colore di arcos quindi un'altra bustina da 5 grammi questo per puntualizzare che è la campionatura parpoca quella la campionatura di giugno parpoca è composta da sei bustine di helios e sei bustine di arcos entrambe da 5 grammi quindi tutte le colorazioni da 5 grammi con in omaggio il cabochon parpoca sempre questo appunto per puntualizzare comunque nell'inserzione che vi lascerò linkata qui sotto troverete tutta la descrizione con appunto anche il colore che non vi ho mostrato ma che comunque potete vedere nell'inserzione io mi scuso per questo inconveniente ma ci ho tenuto comunque a dirvelo è una bustina in più quindi credo proprio che vi faccia solo più che piacere chi ha seguito la diretta si ricorderà appunto di questo particolare che subito effettivamente erano 6 e 5 poi dopo parlando così abbiamo deciso di fare conto pari sei bustine di helios e sei bustine di arcos benissimo io vi ringrazio e di nuovo vi saluto ciao